Sono otto anni che il centro estivo delle Marcelline è cresciuto, è cresciuto sempre di più. Siamo arrivati poi gli ultimi anni ad avere punte di 150 ragazzini alla settimana, che avevano tutti spazio nel nostro grande parco. Quest'anno è diverso, lo sappiamo tutti, c'è stata la problematica del Covid, quindi i numeri saranno sicuramente più bassi, abbiamo un numero chiuso, iniziamo il 6 di luglio per partire nella massima sicurezza. Quali saranno le attività che si potranno svolgere nei vostri impianti? Noi abbiamo il centro estivo diviso in due gruppi. Il primo gruppo è relativo ai bambini di 3, 4, 5 anni, quindi età prescolare, per i quali possiamo usufruire dell'aiuto delle maestre dell'asilo, della scuola, quindi sono delle pedagogiste molto brave e avremo dei gruppi massimo di 5 bambini come da regole. Poi invece abbiamo il gruppo con i nostri educatori, con i nostri educatori sportivi, il gruppo dei bambini da 6 a 12 anni. La differenza rispetto all'anno scorso è che, mentre all'anno scorso potevano fare tanti sport insieme, quest'anno invece ogni singolo gruppo avrà un educatore che porterà avanti un discorso di giochi, di motricità e di un singolo sport e questo sarà per tutta la settimana, sempre questo per andare incontro a quelle che sono state le disposizioni governative e dell'ordinanza regionale. Il verde, ma non solo tra i punti di forza di questi centri estivi? Sì, noi abbiamo un parco molto grosso, quindi uno dei punti di forza degli altri anni era il fatto che i bambini erano concentrati, gli altri anni avevamo anche una piccola piscina, quest'anno non abbiamo potuto farla, ma noi siamo ubicati nella villa Brigno Le Sale, quindi abbiamo gli spazi della scuola, abbiamo due entrate proprio per differenziare il gruppo dei bambini dai 3 ai 6 anni e quelli dai 6 ai 12, da via San Nazaro entreranno i bambini dai 6 ai 12 e invece l'entrata per i bambini dai 3 ai 6 anni è da via Zara, per mantenerli separati, per mantenere sempre il massimo della sicurezza. E all'esterno, nel nostro parco, con le nostre infrastrutture sportive, abbiamo anche allestito delle zone con delle grosse ombreggiature. Allora, i posti sono veramente limitati e li stiamo chiudendo proprio questi giorni, eventualmente si può inviare una mail a sportchiocciolamarcellinegenova.it o telefonare allo 010 362 17 42 la mattina.